La Proloco Montecchio di Vallefoglia presenta gli eventi di Natale. L'8, il 9 e il 10 dicembre i mercatini di Natale e il meraviglioso presepe itinerante Betlemme a Talacchio, organizzato dalla parrocchia di Talacchio. Il 16 e 17 dicembre le cerimonie natalizie in Piazza della Repubblica e i canti natalizi sotto l'albero con i bambini dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II. Il 24 dicembre c'è la veglia di Natale con castagne e vin Brulè subito dopo la messa di mezzanotte. Il 26 dicembre arrivano gli antichi mestieri viventi per le vie del paese ed il 6 gennaio il presepe si anima con l'arrivo dei Re Magi con musica e canti popolari. Per maggiori informazioni segui la pagina Facebook Proloco Montecchio di Vallefoglia.